italiani italiane buonasera i rappresentanti politici del movimento 5 stelle e della rega hanno stipulato un contratto di governo durante la lavorazione di questo importante documento ho saputo che si sono dati anche alla ricreazione hanno giocato e con questo conto come fa un certo silvio hanno giocato a rubamasso hanno giocato a briscola hanno giocato alla battaglia navale le mie orecchie sentivano queste parole se uno affondata il simbolo si è trasformato in una pernacchia in quanto sono molto adirato verso questi partiti e poi hanno continuato a giocare a nascondino ed anche a risico sospendendo però l'attacco delle armate rosse in quanto il pd si trova all'opposizione a questo punto è inevitabile che quando lunedì si presenteranno al mio cospetto la mia risposta sarà niente contratto di governo ma un governo tecnico da me realizzato almeno fino alla fine di dicembre di quest'anno spostando le elezioni a ottobre con questo ho concluso per il momento italiani italiani buonasera si fa per dire anche se Grazie a tutti.